buongiorno a tutti benvenuti alle new entry allora per la lezione occorre una sedia comoda se non hai braccioli laterali è ancora meglio perché ci dà la possibilità di muovere le braccia come vogliamo a nostro piacimento se hai braccioli no problem spuggerete le braccia sui braccioli allora innanzitutto sediamoci con il nostro sederino ben poggiato sul sedile della sedia e la schiena poggiata sullo schienale della sedia le gambe le andiamo a divaricare un pochino quanto le nostre spalle ok quindi le ginocchia larghezza delle spalle i piedi poggiati a terra possibilmente con l'alluce il mignolo e il tallone del piede destro del piede sinistro che premono verso il pavimento come fossero tre ventose che si incollano a terra le braccia le teniamo lungo i o se avete braccioli le teniamo poggiate sui braccioli della sedia le scapole dietro la nostra schiena le facciamo scivolare verso le tasche posteriori dei pantaloni anche se non le avete immaginatele in modo tale che le nostre spalle possano allontanarsi dalle orecchie ok quindi spalle lontane dalle orecchie dalla parte del petto andiamo ad allontanare le spalle tra loro sentendo le clavicole più ampie più lunghe come se le volessimo sfilare lateralmente dalle nostre spalle lo sterno lo sentiremo leggermente più avanti e le scapole dietro un pochino più vicino alla colonna ok manteniamo le orecchie lontane dalle spalle e l'apice del capo su verso il soffitto quindi sentiamo la nostra colonna più lunga sulla stessa linea della colonna che divide il nostro corpo a metà andiamo a disporre il naso il mento lo sterno l'ombelico ed il puber in questo modo saremo il più possibile allineati simmetrici ora rilassiamo la fronte le palpebre se volete e se potete chiudere gli occhi quindi palpebre rilassate significa occhi chiusi labbra rilassate manteniamo la gola rilassata e la lingua morbida e inaspiriamo l'aria con il naso e espiriamo tiriamo fuori l'aria con la gola come se volessimo appannare uno specchio davanti al nostro viso quindi usate l'immaginazione e pensate di dover appannare con il vostro alito uno specchio posto davanti al vostro viso quindi inaspiro nel naso e spiro dalla gola inaspiro nel naso e fuori l'aria dalla gola come se volessimo appannare uno specchio davanti al viso lentamente quando inaspiro cerchiamo di non fare rumore quindi non è una specie di folletto di aspirapolvere no lentamente quando inspiro quattro secondi sento l'aria che entra nel naso e che al tempo stesso gonfia il mio torace mantengo l'aria dentro 1 2 secondi in apnea e poi fuori l'aria dalla gola per circa 6 8 secondi quindi inaspiro nel naso mantengo e spiro dalla gola e ancora una volta inaspiro nel naso mantengo e spiro dalla gola molto bene ora diamo una direzione all'aria che entra e iniziamo dalla pancia quindi respirazione di pancia mi metto un pochino di profilo provando a far vedere i movimenti della pancia ok seppur minimi allora immaginate la vostra pancia come fosse un palloncino e adesso inaspirando cerchiamo di gonfiare la pancia sentendo le pareti della pancia dilatarsi spingere a 360 gradi quindi verso avanti verso i lati e anche un pochino verso dietro mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola e la pancia piano piano si svuota quindi si sgonfia un pochino e l'ombelico tende ad avvicinarsi allo schienale della sedia e ancora quando prendo l'aria nella pancia dobbiamo cercare di rilassare il pavimento pelvico ossia i muscoli alla base del nostro bacino tra gli organi genitali e l'ano quindi inaspirando rilasso l'ano rilasso gli organi genitali e dovremmo avere la sensazione come la vescica come se la vescica si gonfiasse insieme alla pancia mantengo l'aria dentro e lentamente fuori l'aria dalla gola e la pancia si svuota si scava diventa concava come una conchiglia e l'ombelico cerca di avvicinarsi il più possibile allo schienale della sedia e ancora inaspiro nella pancia mantengo e fuori e ancora una volta inaspiro nella la pancia rilassando il pavimento pelvico sentiamo la vescica e la pancia confiarsi mantengo e fuori l'aria e ancora una volta inaspiro mantengo e spiro ok ora cambiamo tipo di respirazione e se potete poggiate le mani lateralmente le vostre costole ok in questo modo altrimenti tenete le braccia lungo i fianchi da qui porteremo l'aria stavolta dove di ladro il nostro torace immaginate che la vostra maglietta diventi stretta stretta sotto le ascelle e inaspirando vogliamo portare l'aria proprio sotto le ascelle per allargare la maglietta quindi in aspiro portando l'aria verso le ascelle sentiamo il nostro torace che si allarga si espande lateralmente sentite le costole spingere verso l'esterno contro le vostre mani mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola e mentre espiro dalla gola le costole si avvicinano tra loro e scellono verso il bacino come se volessero infilarsi dentro l'imbuto quindi in aspiro verso le ascelle mantengo e fuori fuori l'aria e le costole scivolano verso il bacino e ancora in aspiro portando l'aria verso le ascelle vedete le mie mani come si spostano non sono io che muovo le mani ma sono le costole che stanno muovendo le mani verso l'esterno e fuori l'aria scivolano le costole verso il bacino il torace si restringe e lo sentiamo più unito con il bacino quindi più compatto più unito e ancora in aspiro mantengo e fuori e ancora una volta in aspiro verso le ascelle mantengo e fuori ok ancora un altro tipo di respirazione mi metto di lato così vedete meglio per fare questo tipo di respirazione una mano appoggiata sull'obelico l'altra mano la appoggeremo in mezzo al petto col pollice che si appoggia sullo sterno ok manteniamo le spalle rilassate lontani dalle orecchie da qua per fare questo tipo di respirazione dobbiamo tenere l'ombelico sempre leggermente premuto verso lo schienale della sedia e i muscoli della gola quindi gola rilassata che cosa faremo inaspirando cercheremo di portare l'aria in mezzo alle scapole ok dove sentite la zona tra le scapole poggiare sullo schienale della vostra sedia quindi inaspiro portando l'aria tra le scapole e sentiremo il nostro petto gonfiarsi un pochino come se sotto ci fossero due palloncini che si stanno riempiendo e spingono un pochino lo sterno verso il naso mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola rilassando la gola, rilassando il petto come se volessimo fare un sospiro di sollievo e mentre espiro lo sterno che fa si abbassa e si avvicina al nostro tube, al nostro bacino quindi inaspiro tra le scapole non lo so, intanto prendi questo e fuori l'aria rilasso la gola, rilasso il petto e lo sterno scivola verso il tube e prendo sentite che più inspirate e più lo sterno si avvicina al naso mantengo e giù fuori l'aria rilasso la gola, rilasso il petto lo sterno si abbassa e scivola verso il tube e ancora inaspiro tra le scapole mantengo e fuori ultima volta inaspiro e fuori ok ora andiamo ad unire il tutto e facciamo un'unica inaspirazione che coinvolga pancia ascelle scapole che cosa significa? che inaspireremo e riempiremo la pancia le costole la zona tra le scapole e continueremo ad ispirare fino a che non avremo la sensazione che l'aria sia arrivata in cima al nostro capo ok quindi io vi faccio vedere progressivamente il livello dove dovreste sentire l'aria con le mani voi tenete le braccia giù lungo i fianchi allora tenendo l'ombelico leggermente premuto verso lo schienale della sedia e rilassando la gola inspiro dalla pancia verso le scapole sotto le ascelle e continuo ad ispirare fino a che non ho la sensazione che l'aria sia arrivata in cima al nostro capo mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola e rilasso la gola rilasso il petto lo sterno scivola verso il pube nel frattempo le costole scivolano verso il bacino nel frattempo la pancia si svuota e l'ombelico si accosta alla colonna come se volesse attaccarsi alla colonna stessa e sentirete il torace più compatto quindi inaspiro rilassando il pavimento pelvico dalla pancia verso le scapole sotto le ascelle su fino in cima al capo mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola rilasso la gola rilasso il petto lo sterno scivola verso il pube le costole verso il bacino la pancia si scava si svuota con l'ombelico che andiamo a risucchiare leggermente come se lo volessimo attaccare alla nuca e ancora inaspiro e pensate questo quando inaspirate provate a immaginare le vostre costole che sorridono le clavicole che sorridono labbra occhi e fronte che sorridono questo farà sì che l'aria possa arrivare più in alto mantengo l'aria dentro e fuori l'aria rilasso la gola rilasso il petto lo sterno scivola verso il pube le costole verso il bacino la pancia si scava si svuota con l'ombelico che cerca di attaccarsi alla nuca quindi sentiremo gli addominali entrare in funzione e ancora una volta inaspiro dalla pancia verso le scapole sotto le ascelle su fino in cima al capo e poi fuori l'aria rilasso la gola rilasso il petto lo sterno scivola verso il pube le costole verso il bacino la pancia si scava si svuota con l'ombelico che viene risucchiato verso la nuca molto bene ora partiamo un attimino con esercizi di mobilità del nostro capo ok e fondamentalmente andremo a lavorare sul tratto cervicale quindi delicati movimenti lenti da qui braccia con i fianchi o se volete potete mettere le mani sulle cosce e mi metto un pochino di profilo così che si possa vedere un po' meglio inaspirando vado con lo sguardo verso il soffitto portando il mento verso il soffitto espirando porto il mento verso la gora senza flettere il capo in avanti ok? mento verso la gora sguardo verso avanti e su prendo l'aria e giù fuori l'aria su prendo l'aria e giù fuori e giù su prendo e giù fuori su prendo e giù fuori su prendo e giù fuori su prendo giù fuori ancora due volte su prendo e giù fuori ultima volta su prendo e giù fuori molto bene ritorno al centro e adesso vado a ruotare il capo verso destra ok? e poi verso sinistra quindi inaspiro e ogni volta inaspiro il nostro capo come un palloncino deve volare deve avvicinarsi al soffitto espirando ruoto il capo verso destra sguardo verso destra delicatamente ruoto il capo verso destra torno al centro prendo l'aria e e vi ricordo il capo si avvicina al soffitto espirando ruoto verso sinistra espirando torno al centro prendo l'aria e fuori l'aria a destra torno al centro prendo l'aria e fuori l'aria a sinistra prendo l'aria al centro e fuori l'aria a destra prendo l'aria al centro e fuori l'aria a sinistra prendo l'aria al centro e fuori l'aria a destra prendo l'aria al centro e fuori l'aria a sinistra prendo l'aria al centro e fuori l'aria a destra prendo l'aria al centro e fuori l'aria a sinistra molto bene e da qui ragazzi guardate me allora mettete se potete le mani sullo sterno immaginate i piccioni ok? che fanno questo movimento con il capo allora con le mani blocco il petto e inaspirando spingo indietro la nuca come se volessimo premerla sulla parete dietro di noi espirando spingo il capo il mento verso avanti inaspiro spingo indietro e respiro spingo avanti dietro prendo l'aria avanti fuori l'aria dietro prendo l'aria avanti fuori l'aria dietro prendo avanti fuori prendo avanti fuori prendo avanti fuori avanti fuori prendo avanti fuori ancora due volte prendo avanti fuori prendo avanti fuori molto bene ci siamo ora ora da qui mani sulle spalle se riusciamo e andiamo a disegnare con i gomiti dei grandi cerchi e inspiro quando vado avanti e espiro quando vado indietro prendo e fuori avanti prendo e dietro fuori prendo e fuori prendo fuori prendo fuori prendo fuori prendo fuori cambiamo verso da dietro verso avanti dietro prendo l'aria avanti fuori l'aria prendo dietro avanti fuori prendo dietro avanti fuori prendo avanti fuori prendo avanti fuori prendo avanti fuori Prendo avanti e fuori Prendo avanti e fuori Prendo avanti e fuori Molto bene E adesso ragazzi iniziamo a fare esercizi di mobilità Quindi vi metto di fianco per farvi vedere meglio Se volete rimanete appoggiati sullo schienale della sedia Altrimenti se ce la fate staccatevi poco poco dallo schienale della sedia Mettiamo le mani sulle ginocchia I piedi ben poggiati a terra E da qua andiamo a fare il gatto e il cammello Che cosa sono? Due movimenti Uno di estensione della colonna Quindi le scapole si avvicinano tra loro Il coccige spinge verso lo schienale della sedia E sentirete la colonna invertire la propria curva Andare verso avanti E cambio fuori l'aria Facciamo il cammello Quindi la colonna diventa rotonda Immaginiamo la gobba del cammello Anzi del dromedario Il cammello ce n'ha due E avanti prendo l'aria E dietro fuori l'aria Prendo E fuori Sono 20 movimenti 5 6 7 8 9 9 10 Molto bene Ora Andiamo a flettere lateralmente la nostra colonna Allargate un po' di più le gambe In modo tale da avere più stabilità E da qui Portiamo le braccia verso il soffitto Inaspirando E fletto verso sinistra Con il tronco La mano sinistra Tira La mano destra verso sinistra Il piede sinistro Spinge forte contro il pavimento Prendo Prendo l'aria d'orno E cambio fuori l'aria E anche qui 20 movimenti Prendo E 3 Prendo E 4 Prendo E 5 Prendo E 6 Prendo E 7 Prendo E 8 Prendo E 9 Prendo E 10 Ancora E 1 Prendo E 2 Prendo E 3 Prendo E 4 Prendo E 5 Prendo E 6 Prendo E 7 Prendo E 8 Prendo E 9 Prendo E 10 Prendo Prendo E da qui Andiamo a fare Movimenti in Torsione Quindi Tenete le gambe Un pochino più vicine Tra loro In modo tale da poter avere Un appiglio Sul Allora Se ruoto verso sinistra Con la mano destra Mi appoggio lateralmente Il ginocchio sinistro Spingo con la mano destra Contro il ginocchio sinistro E Con il ginocchio contro la mano In modo tale da avere Un punto d'appoggio Per poter Ruotare meglio La prima cosa che ruota È il capo Quindi Prendo l'aria Espirando Ruoto verso sinistra Torno al centro Prendo l'aria Espirando Ruoto verso destra Torno al centro Prendo l'aria E fuori l'aria a sinistra Prendo l'aria al centro E fuori l'aria a destra E prendo E fuori Prendo E fuori Prendo E fuori Prendo E fuori Guardate dietro di voi E fuori Andiamo ti E fuori Prendo E fuori Prendo Dai ancora E uno Prendo Due Prendo Tre 3, prendo, 4, prendo, 5, prendo l'aria, 6, prendo l'aria, 7, prendo l'aria, 8, prendo l'aria, 9, prendo e 10, molto bene, da qui andiamo a fare questo esercizio dove andiamo a lavorare sulla catena posteriore, quindi allungo la gamba destra, ok? Quindi che faccio? Inspiro, vado su con le braccia, sguardo verso il soffitto, espirando, allungo, distendo la gamba destra e con le mani vado a toccare la punta del piede destro, torno su, prendo l'aria, riporto la gamba destra in posizione, di partenza e fuori l'aria, faccio la stessa cosa con la gamba sinistra, su, prendo e 3, prendo e 4, prendo e 5, prendo e 6, prendo e 7, prendo e 8, prendo e 9, prendo e 10, ancora, prendo e 1, prendo e 2, prendo e 3, prendo e 4, prendo e 4, prendo e 5, prendo e 6, prendo e 7, prendo e 8, prendo e 9, prendo e 10, molto bene, adesso questi 4 movimenti che abbiamo appena fatto, li ripetiamo per una seconda volta, sempre 20 ripetizioni all'esercizio, partiamo col primo che è cammello e gatto, quindi, inspiro, 1, gatto, cammello, 2, espiro e 3, e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ancora 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, 7, 8, 9, 10, ok, ci siamo? Adesso, flessione laterale, gambe, larghezza, un pochino più delle spalle, 1, prendo e 5, prendo e 5, prendo e 5, prendo e 6, prendo e 7, prendo e 5, prendo e 5, prendo e 6, prendo e 6, prendo e 7, 8, 9, 10, ok, prendo e 8, prendo e 8, prendo e 8, 8, 9, 10, e ancora e 1, prendo e 2, prendo e 3, prendo e 4, prendo e 5, 5, prendo, e 6, prendo, e 7, prendo, e 8, prendo, e 9, prendo, e 10. Molto bene. E adesso andiamo a fare le torsioni, le gambe un pochino più vicine tra loro. Ricordo che ruota prima il capo e poi il resto della colonna. Cerchiamo di mantenere il bacino abbastanza fermo, ok? Quindi, inspiro, estirando, mano destra contro il ginocchio sinistro, ruoto il capo verso sinistra, poi il resto della colonna. 1, prendo, 2, prendo, 3, prendo, 4, prendo, 5, prendo, 6, prendo, 7, prendo, 8, prendo l'aria. E 9, prendo, 10, prendo, 1, prendo, e 2, prendo, e 3, prendo, 4, prendo, 5, prendo, 6, prendo. Prendo. Sette. Prendo. Otto. Prendo. Nove. Prendo. Dieci. Ok. L'ultimo esercizio di mobilità. E da qua. Vado su, prendo l'aria. E giù. Stendo la gamba destra e tocco la punta del piede destro. Cambio. E cambio. Vai giù sinistro. E tre. Prendo. E quattro. Prendo. E cinque. Prendo. E sei. Prendo. E sette. Prendo. E otto. Prendo. E nove. Prendo. E dieci. Prendo. E uno. Prendo. E due. Prendo. E tre. Prendo. E dieci. Prendo. E dieci. Prendo. E dieci. Prendo. E dieci. E ok. Molto bene. Adesso. Partiamo dalle gambe. Appoggiate bene la schiena allo schienale della sedia. Con le mani. Se ce la fate. Aggrappatevi sotto il sedile della sedia. In modo tale da avere un maggior sostegno e punto di appoggio, di ancoraggio del nostro tronco. e da qui andiamo a distendere alternando gamba destra e gamba sinistra. Ok? Quindi uno. E due. E tre. E quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Fuori d'aria quando vado a sollevare la gamba. eh? Dieci. Quando sollevo la gamba, l'ombelico, cerchiamo di spingerlo dietro verso la schiena della sedia. Due. E tre. E quattro. E cinque. E sei. Sette. Fuori d'aria mentre vado su. Eh? Otto. Nove. Dieci. Mancano dieci? Dai. Dieci. E nove. Forza. Otto. E sette. Se volete, toccate i muscoli della coscia e sentite quando distendete la gamba come si attivano. Dai. E su. E su. E su. E su. E su. E su. Ultimi due. Su. E su. Molto bene. Bene. Adesso. Andiamo a fare questo. Non so se riesco a farlo vedere in video. Ma spingiamo sulle dita dei piedi, sulle ossa delle dita dei piedi contro il pavimento sollevando i talloni. Ok? Quindi. Devo spingere con le dita dei piedi e quindi i metatarsi, le teste metatarsali contro il pavimento e reazione, che cosa succede? Si sollevano i talloni. Dai. E insieme, simultaneamente. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Sentite i colpacci come si attivano ogni volta che tirate sui talloni. E ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E ancora. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Bene. Ci siamo? Adesso, da qua, che cosa dobbiamo fare? Solleviamo alternando gamba destra e, scusate, ginocchio destro e ginocchio sinistro. Quindi, uno e due e tre e quattro e cinque e sei. Aggrappatevi al sedile della sedia. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Bene. Bene. Adesso, da qui andiamo a sollevare il ginocchio e spingo. Sollevo il ginocchio e spingo avanti il piede. Sollevo il ginocchio e spingo come se volessimo spalancare la porta di casa. e uno. Torno giù. Due. Torno giù. Tre. Fuori l'aria ogni volta che spingo. Quattro. Prima sollevo il ginocchio e poi spingo. 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e ancora 1 e 2 e 3 e 4 5 6 7 8 9 10 e 9 e 10 mancano 10 10 forza 9 e 8 e 7 6 5 4 3 2 1 Uno. Molto bene. Adesso, ragazzi, sulla base di quello che abbiamo appena fatto, cioè nel senso dell'esercizio precedente a quello che abbiamo appena fatto, andiamo a sollevare gamba destra, braccio sinistro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, braccio opposto alla gamba. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Piccola variazione. Adesso, sempre braccio opposto alla gamba, ma con la mano tocco la punta del piede opposto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E uno, mancano dieci, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Molto bene. Adesso mettiamo un attimo le gambe a riposo. E andiamo a lavorare sui principali gruppi, quindi spinta e trazione. Prima facciamo la spinta, ok? E immaginate che dovete spostare la parete davanti a voi ancora più avanti. Quando riportate le braccia indietro, riportate i gomi di dietro il vostro tronco, ok? Ma l'enfasi, la spinta è verso avanti, ok? Quindi fuori l'aria quando spingo avanti. L'ombelico spinge verso il sedile. Che è successo? Non c'entro niente io. E spingo. Uno, due, tre e quattro. Fuori l'aria quando spingo. Cinque. Quando vado indietro, sei, carico invece l'aria. Sette. Prendo l'aria. Fotto. Prendo l'aria. Fuori l'aria. E ancora. Uno. Due. Tre. Scusate. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ancora dieci. Dai. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Bene. Adesso che cosa facciamo? Facciamo il contrario. Ossia tiriamo a noi qualcosa. Quindi l'enfasi è verso dietro. Cioè la trazione. È come se doveste avvicinare qualcosa di pesante a voi. Espiro quando vado dietro. Ok? Rilascio quando vado avanti. Espiro. Se vado avanti, vado leggermente in avanti con il busto e poi fuori l'aria tiro indietro. Pronti? Vai. E uno. E due. E tre. Come se facessimo il vocatore. Quattro. E cinque. E sei. E sette. E otto. Copiate il mio movimento del tronco. Nove. E dieci. La colonna mi raccomanda allineata. Non la fate curva. Due. E tre. E quattro. E cinque. E sei. E sette. E otto. E nove. E dieci. Dai ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ultime dieci. Dai forza. Gli ultimi cento metri. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Benissimo. Adesso. Da qui. Rubiamo dalla natura. E vediamo il volo degli uccelli. Ok? Quindi. Guardate però. Cosa fondamentale. Il palmo della mano quando il braccio scende è verso le cosce. Quando il braccio sale è verso le orecchie. Ok? Capito? Quindi. E fuori l'aria. Giù prendo. E due. Prendo. E tre. Prendo. Quattro. E cinque. E sei. E sette. E otto. E nove. E dieci. E ancora uno. E due. E tre. E quattro. E cinque. E sei. E sette. E otto. E nove. E dieci. Ancora dieci. Forza. Uno. E due. E tre. E tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E otto. Nove. Dieci. Molto bene. Adesso. Da qui. Andiamo a fare. Questo movimento. Immaginate che state allo stadio. Una sorta di ola. Ok? Da qui. Vado indietro il più possibile con le braccia. E poi vado in alto il più possibile con le braccia. Dai. E uno. Spingo dietro. Due. Spingo dietro. Tre. Spingo dietro. Quattro. Spingo dietro. Cinque. Spingo dietro. Sei. E sette. E otto. E nove. E dieci. Ancora. Uno. E due. E tre. Sembrano i mondiali del 2006. Quando l'Italia ha vinto i mondiali. E su. Forza. E su. Dai. E su. E su. Mi raccomando. Spinta anche dietro. Su. Spingo 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 dietro. E giù. Ok ragazzi, e adesso facciamo un attimo lo stretching del nostro capo, collo direi, più che capo, e appoggiamo la mano sinistra sulla tempia destra e andiamo a flettere il capo lateralmente verso sinistra. Spalla destra, lontana dall'orecchio destro, in che modo? Con la punta delle dita della mano destra cerco di toccare il pavimento. Bravissimi. E lentamente cambio. Quindi, mano destra sulla tempia sinistra, con le punte delle dita della mano sinistra cerco di toccare il pavimento, nel frattempo fletto il capo verso destra. Molto bene, torno al centro. Adesso ruoto il mento verso la spalla sinistra, con la mano sinistra mi metto dietro la nuca, sguardo in basso a sinistra, sul pavimento. Con la punta delle dita della mano destra, sempre cerco di toccare il pavimento. Con la punta delle dita della mano sinistra, sempre cerco di toccare il pavimento. Mano destra, mano destra dietro la nuca, sguardo in basso a destra, con le punte delle dita della mano sinistra cerco di toccare il pavimento. Grazie. Grazie. torno lentamente al centro e da qui disegno con il mento solo il profilo anteriore del collo della maglietta da sinistra verso destra inaspiro e da destra verso sinistra respiro con il mento disegno il profilo anteriore del collo della maglietta bravissimi sentite che bello abbandonate il capo in avanti e guidatelo a disegnare questa sorta di mezzaluna ancora una volta ok ragazzi e andiamo su verso il soffitto come se volessimo prendere le lonze e i salami certo questo caldo e le lonze e i salami non è che si chiamano proprio l'ideale però cerchiamo di andare su verso il soffitto ci allunghiamo ci allunghiamo ci allunghiamo su 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 li guardate su 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 e giù bravo non è che Grazie a tutti.